Ciao a tutti, oggi prepareremo la pizza fritta ripiena di Nutella. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Ingredienti sono acqua, lievito di birra fresco, zucchero, farina di tipo zero, olio extravergine d'oliva, sale e per friggere olio d'arachidi e per il ripieno la Nutella. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il lievito e lo zucchero ed azionare il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungere la farina e l'olio. Ed azionare il bimbi in modalità spiga per un minuto. Aggiungere il sale ed impastare sempre in modalità spiga per 5 minuti. trasferire in una ciotola unta con olio, coprire con pellicola trasparente e lasciare lievitare in forno spento con luce accesa per almeno due ore. Abbiamo posizionato l'impasto su un piano di lavoro rivestito con carta da forno, adesso lo stenderemo con il mattarello formando un rettangolo. Ritagliamo delle strisce da 3 centimetri. Schiacciare leggermente la parte centrale. abbiamo messo la nutella in una sacca a poche e metterla all'interno. chiudere, sigillando bene i bordi. ritagliare la pasta in eccesso. posizionare su una teglia rivestita con carta da forno e lasciare riposare per 45 minuti. friggere in abbondante olio caldo fino a doratura. pizza fritta ripiena di nutella. grazie e alla prossima ricetta. pizza fritta ripiena di nutella.